Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo alla chiesa di Sareopoldo e San Massimiliano, per le acorde a Sintolese. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo suonare per le 18.13. Di fronte a un po' lo faccio vedere, questo è il campanone, questa è la menzana, la sanata menzana, questa è la piccola. Adesso ascolteremo il melodia, abbiamo gli aggiunto alle 18.13. Quindi a presto dai doord, campanato, privilotto e buon ascolto a tutti. Ciao! Grazie. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.